Ciao a tutti ragazzi, io sono TheBestPlayer e oggi siamo su AID Online Allora, è il mio primo episodio di questa serie Quindi andiamo di qua Andiamo a cercare una bella partitella Ma non passate macchine Che mince Allora Allora, eccoci ragazzi, adesso cominciamo la prossima partita Perché ho dovuto aspettare Allora, no, voglio essere una scatola Io spero che ce la facciamo, perché se no Ok No, io so quattro Spero non ci trovano, perché veramente se no Allora Allora Pronto, stiamo ancora attanti a due minuti Allora 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 Andate 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 Ve lo uso, però Ve lo vedete Ragazzi Mi hanno ucciso Cattivi Cattivi cos'è un stavo paul marzo ciao a te nascondi c'è il mio rimanile imparato un'ispetta dove vai? dove hai credito? macchina non passare adesso madonna chi è? chi è? hello? hello? no queste macchine che passano vabbè andiamo qua oh siamo ancora terzi no vabbè vabbè no fatti prendere no io l'ho uscito perché ho messo non ho messo io l'ho uscito a quell'altro perché non ho messo baron sul gioco oh oh eccolo oh oh ma l'avete visto? se nascosto là tanto l'ho visto l'ho visto è andato qua e se nascosto qua ma non stai così che si credono che cacciatori sono stupidi no 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 no